La unità didattica è dedicata all'approfondimento del concetto di pianificatore lineare lo vediamo con un esempio un pochino più complesso dell'esempio che abbiamo visto nell'unità didattica precedente relativo all'esempio quello lì delle scimmie e delle banane qui per illustrare meglio il funzionamento del pianificatore in avanti un forward planner prendiamo proprio l'esempio storico che è presente nel libro Artificial Intelligence di Nils Nilsson è il classico mondo dei blocchi che è stato molto utilizzato lo vedremo anche nell'unità didattica successiva per illustrare le potenzialità del paradigma della pianificazione allora il test in questione l'ambiente di test intendo dire è un mondo in cui ci sono solamente tre blocchi abbiamo uno stato iniziale definito da questi predicati clear B perché clear vuol dire che non ha niente sopra il blocco B e quindi potrebbe essere preso da una mano robotica che scende dall'alto clear B clear C C si trova su A la mano robotica è vuota mano libra and empty A sta sul tavolo e anche B sta sul tavolo l'obiettivo è quello di impilare blocchi A, B, C come descritto nella figura cosa che risponderebbe al goal on B, C and on A, B e come sappiamo ovviamente dal punto di vista logico questi due goal potrebbero anche essere invertiti il significato sarebbe lo stesso di fatto nella pianificazione questo potrebbe avere anche delle ripercussioni ma lo vediamo nella prossima unità didattica dunque il robot si suppone che abbia quattro azioni a disposizione quello di prelevare un blocco dal tavolo quello di poggiarlo sul tavolo quello di poggiare un blocco su un altro quello di prelevare un blocco che sta su un altro nel caso di prendere un blocco dal tavolo bisogna che le precondizioni e la delete list coincidano coincideranno anche negli altri operatori e sono sostanzialmente che il blocco deve stare sul tavolo altrimenti non può essere prelevato dal tavolo deve essere libero, non deve avere un blocco sopra e la mano robotica deve essere libera e quindi in grado di prenderlo tutti e tre questi predicati saranno eliminati dopo il compimento dell'azione e la conseguenza invece dell'azione sarà che il blocco si troverà nella mano del robot quindi holding è un altro predicato che vediamo adesso con un solo argomento vuol dire che la mano del robot sta tenendo l'argomento del predicato holding come vedremo il pianificatore nel verificare la validità delle precondizioni stanzierà la variabile x ecco, analogamente per gli altri operatori il put down sarà sostanzialmente l'inverso di pick up come struttura stack ha due argomenti perché si tratta di mettere un blocco sopra un altro la precondizione della delete list coincidono anche qui sono che il blocco che deve essere poggiato su un altro deve essere nella mano robotica e il blocco che farà dopo da supporto deve essere libero la conseguenza sarà che la mano si libererà perché avrà poggiato il blocco sopra l'altro il blocco che ha poggiato sarà sopra effettivamente l'altro e il blocco che appena ha poggiato sarà libero non avrà nessun blocco sopra un stack è simmetrico dunque, se noi andiamo a sviluppare dallo stato iniziale il caso in questione abbiamo che questo è lo spazio degli stati e sostanzialmente la soluzione del nostro problema sarà questo percorso che è riportato qui in grassetto bisognerà prima prelevare il blocco dal quindi quindi il blocco ci dà mettere A sul tavolo prendere B mettere B su C prendere A dal tavolo mettere A su B e alla fine si arriva in questo stato in cui i due gol ON B C e ON AB sono verificati adesso questo è quello che dobbiamo realizzare con il nostro programma in Prolog che dovrà sintetizzare questo piano partendo da un certo stato iniziale io adesso rispetto al programma che abbiamo visto nel caso precedente faremo qui un controllo che non si passi non che non si ripeta due volte la stessa azione all'interno del piano ma che non si passi due volte per lo stesso stato quindi lo stato siccome è individuato da un insieme di stati di predicati ground per poterlo in qualche maniera riconoscere in maniera univoca essendo lo stato l'insieme rappresentato da una lista S l'andiamo a ordinare con un precato built in sort creiamo una lista ordinata in senso lessicografico cioè a parità di struttura cioè gli atomi verranno prima dei funtori e sia gli atomi che i funtori saranno ordinati in senso lessicografico in maniera tale insomma che ci sia una rappresentazione unica per l'insieme dei fatti ground e poi dovremmo far partire quindi il pianificatore da questo stato iniziale dandogli il goal in questo caso che A sia su B e che B sia su C ed ora il predicatore si dice il piano lo stato iniziale che B è libero che C è libero che la mano robotica è libera C si trova su A e A e B sono sul tavolo la struttura degli operatori è questa qui sostanzialmente è la stessa struttura che avevamo visto che ha come questi fatti ground una volta che saranno resi ground saranno eliminati dalla descrizione dello stato e sarà invece aggiunta questa tripla di predicati dove XY sarà resi ground resi ground è quando si va a verificare che sono valide le precondizioni quindi vedete che la struttura degli operatori che andiamo a utilizzare qui corrisponde a quella che abbiamo visto nell'esempio il predicato è la struttura degli operatori che riceve in e qui va a lanciare un predicato pianifica a cinque argomenti i tre argomenti sono quelli che abbiamo già introdotto il quarto e il quinto argomento il terzo e il quarto argomento aggiuntivi sono il piano parziale perché utilizzeremo un accumulatore per questa ricerca in depth first per andare a generare il piano e poi la lista degli stati dove siamo già passati per evitare di restituire percorsi ciclici la ricerca in profondità eccola qui sostanzialmente si fermerà quando tutti i goals sono verificati nello stato corrente quindi abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi originari e questo lo verificheremo con un predicato di sotto insieme fin quando questo non sarà accaduto dovremo andare a selezionare un operatore questa selezione viene fatta utilizzando l'operatore che cercherà in maniera non deterministica di matchare con una di queste quattro clausole che corrispondono ai quattro operatori poi andando avendo preso sia le precondizioni che la cancellazione e gli aggiungendi andremo innanzitutto a vedere se con il predicato sotto insieme se le precondizioni sono verificate nello stato corrente e sarà proprio questo predicato sotto insieme per come lavora andrà a vedere se uno per uno i fatti sono sotto insieme dell'insieme dello stato e proprio questo questo member farà anche il match perché h qui corrisponderà a un predicato per esempio questo qui con una variabile dentro nel andare a vedere che è membro dell'insieme set il predicato member farà anche l'unificazione della variabile che trova qui della o delle variabili per cui sotto insieme fa la distanzazione delle variabili una volta che tutte le variabili sono state distanziate e quindi in particolare anche quelle che comparivano nei cancellandi si fa la differenza dei cancellandi rispetto allo stato e si prendono i rimanenti quindi si applica la delete list e poi anche gli aggiungenti non ci avranno a questo punto più variabili se la struttura degli operatori è tale per cui tutte le variabili che compaiono nel large list e nel adult list erano anche nelle precondizioni ovviamente e quindi con la append andiamo a creare un nuovo stato sicuramente questi saranno infatti il nuovo stato ma non sono messi in ordine alfabetico e lessicografico per cui ordiniamo lessicograficamente il nuovo stato a questo punto andiamo a vedere che questo nuovo stato non sia già stato visitato lungo quel piano parziale se le cose stanno così procediamo oltre e quindi mandiamo il facciamo una ricorsione sul pianificatore dal nuovo stato con lo stesso goal mettiamoci goals perché sono più di uno e aggiungendo nel piano parziale l'operatore che abbiamo appena selezionato e aggiungendo negli stati che abbiamo visitato il nuovo stato che abbiamo appena generato bene a questo punto possiamo compilare il buffer e andare a vedere direttamente con il trace come funziona innanzitutto andiamo a prendere lo stato iniziale e poi ordiniamo lo stato iniziale in maniera tale che sia ordinato in maniera lessicografica a questo punto lanciamo il pianificatore che per prima cosa andrà a verificare andrà a lanciare il pianificatore a 5 che per prima cosa andrà a verificare se abbiamo già i goal non sono verificati e quindi si va a prendere un operatore poggia il primo operatore e compare nel poggia con le variabili non istanziate quando lanciamo sotto insieme si vede che le precondizioni di poggia non sono verificate nello stato corrente per cui non funziona si va a prendere un altro operatore questo l'operatore togli si va a verificare se le precondizioni non sono vericate si sono verificate e perché le precondizioni di togli C da A sono che C sia su A e che la mano sia libera e che C sia libero tutti e tre questi fatti sono verificati nello stato corrente andremo quindi adesso ad aggiungere andremo a togliere questa lista qui e andremo ad aggiungere questa qui e quindi lo facciamo subito a questo punto abbiamo un nuovo stato lo ordiniamo dobbiamo vedere che non siamo già passati per questo stato e si effettivamente questo ha successo per cui adesso abbiamo da andare avanti quindi togliamo C da A però adesso dobbiamo capire cos'altro dobbiamo fare intanto vediamo se siamo già arrivati alla fine no non siamo arrivati alla fine quindi dobbiamo ciclare andiamo a prendere un altro operatore l'operatore che prendiamo è poggia quindi poggia C su un altro blocco che chiaramente non è quella la cosa migliore perché se mettiamo C su B dopo non possiamo mettere A su B quindi C dovrebbe andare sul tavolo per cui cerchiamo di andare un pochino veloci effettivamente lo tenta andiamo perché lo poteva che cosa mettere l'azione che adesso sta tentando è quella di poggiare C su A cioè rimettere C esattamente da dove l'aveva tolto e sì in effetti lo potrebbe fare però produrrebbe uno stato che quando andiamo a verificare se è uno stato dove ci siamo già stati fallisce perché era esattamente lo stato da cui stavamo provenendo quindi c'è il backtracking si va a prendere un altro operatore o meglio l'operatore è sempre lo stesso poggia però invece che su A poggia C su B perché sotto insieme ha avuto un'altra soluzione per lo stesso operatore lo stesso operatore ha avuto un'altra soluzione con sotto insieme perché sotto insieme era non deterministico e quindi è riuscito a trovare un altro operatore purtroppo sappiamo che questo è sbagliato ma metterci su B e quindi andiamo a fare la lista differenza ordiniamo verifichiamo che non ci siamo stati e purtroppo è vero e quindi praticamente viene a questo punto viene prodotto il piano parziale togli C da e metti C su B che chiaramente non è soddisfacente comunque andiamo avanti andiamo a prendere un'altra poggia di nuovo ma poggia non avrà le precondizioni verificate prendiamo un altro operatore togli togli A le precondizioni verificate perché andiamo a togliere C da B ce l'abbiamo appena messo C su B adesso andiamo a togliere C da B andiamo a fare ovviamente siccome siamo tornati in uno stato dove siamo appena stati il member fallisce e quindi il not member cioè il member ha successo quindi il not member fallisce backtracking un altro operatore togli qualche altra cosa no non si può quindi proprio un altro operatore prendi l'operatore prendi e vediamo se si può si prendi A si può prendere A e prendere A può andare e attualmente quindi avremmo che il piano è togli C da A metti C su B prendi A qui non si va granché distante per cui a un certo punto se adesso cerco di andare un pochino più veloce avremo la necessità di tornare indietro adesso addirittura mettiamo A su C come vedete abbiamo tolto C da A abbiamo messo mettere A su C non ha non porta nessuna strada comunque si va avanti e cerco di andare veloce perché dopo che abbiamo messo A su C sta cercando di prendere qualche cosa ma non non trova il pianificatore niente di interessante per cui è tornato indietro quando aveva preso A ha eliminato l'azione di mettere A su C perché ha capito che non porta nessuna parte e adesso è costretto a tornare indietro ancora sarà costretto perché si accorge che anche prendi A non andava bene in realtà non andava bene neanche sopra A B quindi deve fare un backtracking profondo sto cercando di andare avanti un po' spedito ecco a questo punto ha preso un altro operatore ha tolto C da A e adesso ha messo C sul tavolo e effettivamente non ha mai fatto questa azione quindi questo stato non ci è mai passato e poi prende A adesso andiamo più veloci ovviamente perché altrimenti quindi il nostro come vedete il pianificatore in avanti tenta tutte le strade non si può certo dire che sia un pianificatore efficiente comunque alla fine il piano eccolo qui il piano che ha prodotto è togli C da A lasciaci sul tavolo prendi B poggia B su C poi prendi A e metti A su B alla fine lo stato è quello lì e quindi i gol sono soddisfatti il pianificatore in avanti è un pianificatore che alla cieca tenta tutte le possibilità e quindi l'ordine in cui abbiamo scritto all'interno del programma gli operatori non abbiamo nessuna preveggenza quindi non sappiamo come dobbiamo dobbiamo scriverli ma in ogni caso come vedete anche se questa è stata una ricerca in profondità non ci ha impedito penso perché siamo stati fortunati di trovare il piano più corto come vedremo adesso nella prossima unità didattica meglio funzionerebbe una ricerca piuttosto che in avanti una ricerca all'indietro generalmente meglio funzionerebbe però il modo in cui sarà implementata ci porterà a mettere in evidenza una difficoltà che abbiamo nel caso in cui facciamo la ricerca all'indietro e poi cercheremo di capire come superare il problema che vedremo nella ricerca all'indietro 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 Grazie.